Siamo stati qua in quanto non i premiati attuali appunto Alto Fest, ma i primi premiati nella prima edizione, gli unici italiani di quell'edizione, infatti sono molto contento che ci siano altri italiani premiati nel proseguo di questa esperienza. E anche che il tipo di istituzioni che sono state, i primi che siano stati dati da F non siano né banali né scontati, nel senso che noi con una certa sorpresa ci siamo trovati premiati due anni fa. E' chiaro che un premio del genere per noi è stato importante per molti aspetti, anche su un piano strettamente territoriale, perché il festival stava venendo da un periodo in cui ha lavorato molto sull'internazionalizzazione della sua proposta e quindi un riconoscimento che venisse dall'estero a questo tipo di lavoro è stato molto importante. Però è anche significativo, a mio avviso, che sia stato istituito un premio di questo tipo che va a premiare l'internazionalizzazione delle manifestazioni e soprattutto che indica quello che è un ruolo importante che gli festival svolgono all'interno del sistema italiano. Perché i festival, io credo alcuni festival, una gran parte dei festival, hanno un ruolo strategico nell'internazionalizzazione sia sotto il profilo di dare visibilità alla scena italiana all'estero sia nei termini di fungere da porta d'accesso allo spettacolo internazionale in Italia, un paese che non è nelle stagioni apertissimo a proposte straniere. Io credo che ci siano alcuni aspetti che i festival detengono a partire dall'internazionalizzazione, a partire dal rinnovamento dei linguaggi e delle forme nello spettacolo. Il premio ad alto feste in qualche modo è significativo anche questo. Il lavoro che i festival fanno nel sostegno alla nuova scena e il lavoro verso le generazioni, le nuove generazioni. Il lavoro che i festival fanno anche in maniera abbastanza sperimentale nelle politiche di audience engagement e di audience development. Infine il lavoro che i festival fanno sulla comunicazione. Spesso le strategie di comunicazione più interessanti che si vedono nascono in ambito festivaliero. Di fronte a tutti questi ruoli che i festival si sono caricati, a volte anche per mancanze di altri elementi del sistema spettacolo in Italia, mi piacerebbe pensare che ora che avremo una legge, ora che si andrà a ridisegnare in parte anche un po' lo scenario, si possa arrivare ad una valorizzazione maggiore proprio dei festival in termini di sostegno. Perché i ruoli sono tanti e la concorrenza con i nostri partner stranieri spesso è improponibile. Io quando vado a vedere il bilancio del custom festival desert col quale lavoriamo regolarmente mi viene una depressione inaudita, detta sinceramente. Per cui, e su questo noi ci dobbiamo però fare anche un'autocritica. Se i festival non sono stati capaci ad oggi di avere una forza rappresentativa sufficiente, perché spesso ci consideriamo molto diversi, ci siamo considerati per lungo tempo molto più dei competitor che degli appartenenti a un unico movimento. E questo qui sicuramente ha limitato molto la nostra capacità di attuare delle politiche comuni. Se appunto avremo questa legge e la battaglia si sposterà sui decreti attuativi, e su questi decreti attuativi dimostreremo se siamo capaci di sviluppare una politica comune di difesa di una categoria, andando di evidenziare quelli che sono i tratti che ci uniscono più che gli aspetti che insomma in qualche modo ci dividono. Grazie.